Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Un'assoluta icona di stile, bellezza ed eleganza la bellissima Kate Middleton, oltre che un'instancabile sportiva, che di recente è stata vista in un look totalmente innovativo Pazzesca in minigonna bianca, canotta e zeppa.Kate Middleton come non l'abbiamo mai vista Le foto che la ritraggono in una mise fanno in men che non si dica il giro dell'etere Un vero incanto di donna. Ed è boom di like.Kate una vera icona di eleganza e di stile La moglie del principe William è indubbiamente una bellissima donna Considerata a buona ragione una vera icona di eleganza e di stile dalle donne di tutto il mondo, sa essere chicco nella sua semplicità, senza mai e poi mai risultare eccessiva o ridondante I capelli sono sempre a posto per lo più lasciati sciolti, oltre che di media lunghezza, mentre il make-up ha delicato e studiato nei minimi dettagli Chiaramente la sua ragguardevole bellezza è un punto a suo favore, ma lo è anche, a onore del vero, la sua eccellente fisicità, che è certamente un dono di natura, ma che lei mantiene, nonostante le varie gravidanze, grazie a un'alimentazione sana e controllata e tanta attività fisica, che pratica sovente in compagnia del suo affascinante consorte E ora uno scatto, apparso su social, che la riguarda affatto in men che non si dica il giro del web, oltre che incetta di like a non finire La duchessa, una di noi.Pazzesca in minigonna bianca e zeppe La meravigliosa Kate non ama nascondersi e quando si tratta di presenziare a occasioni speciali e mondane, in compagnia del marito e dei familiari, non si tira certamente indietro E non lo fa nemmeno se si tratta di assistere a una bella partita di hockey femminile Ed è proprio in tale occasione che, grazie alla pubblicazione di alcuni scatti, tosto messi anche su Instagram, che il vasto popolo del web ha potuto ammirarla nuovamente nel suo splendore Perfetta ed easy con una minigonna bianca e un top a spalle larghe dello stesso colore Una miseresa più elegante e raffinata dalla presenza di un paio di scarpe nere con zeppa di sughero, da gioielli minimal e da un leggerissimo make-up Lei è un vero incanto.E' vicina alla gente comune.Kate ha dimostrazione di quanto sia vicina al popolo e alla gente comune si è fatta più volte ritrarre in compagnia delle giocatrici, che sono apparse raggianti accanto a lei Il suo modo di essere le ha permesso di entrare in men che non si dica nei cuori palpitanti del popolo inglese, che sogna un giorno di veder la regina accanto a William, che è candidato a tale ruolo subito dopo l'amato padre Carlo, alla dipartita della mitica Queen Elizabeth Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video